libro. L'autore di questo libro è Maurizio Testa. Maurizio Testa ha, non sto qui a raccontarvi tutta la sua storia, se non poi passa tutta la puntata, ma diciamo che da 2010 ha cominciato una esperienza di imprenditore sociale ed è ideatore e coordinatore del progetto Artest, che al momento è uno dei soggetti leader in Italia per la consulenza, la formazione nel turismo esperenziale professionale. E' anche presidente di Artest, che è società Benefit, e presidente dell'associazione di promozione sociale Experience for You. Il progetto Artest è nato nel 2014 e nel 2016 è nata la società Artest SRL, che poi diciamo si è evoluta e ha portato anche alla creazione di un club di prodotto, poi magari ne parleremo, faremo degli accenni anche su questo argomento che è presente anche nel libro. Poi abbiamo con noi Rosario D'Appunto, come vi dicevo anche Rosario D'Appunto, lunga storia e tanta esperienza. Oggi fa parte, diciamo, del gruppo che lavora insieme ad Artest ed è presidente di Assotest, che è l'associazione professionale degli operatori per il turismo esperenziale. Poi anche con lui approfondiremo la sua attività e che cosa, diciamo, per cui è importante questo libro per l'Assotest. Last but not least, come si dice, Fiorello Primi, che è presidente anche qui, lunga storia e tante esperienze, presidente dei Borghi più belli d'Italia, che collabora con Artest su una serie di progetti di destinazione. E anche qui approfondiremo i progetti presentati nel libro e come un'associazione importante come i Borghi più belli d'Italia possa trovare una, come dire, una finalità, un'utilità nell'utilizzo di questo manuale, nell'applicazione di quello che poi il manuale racconta. Allora, io comincerei molto rapidamente proprio da Fiorello e Rosario, perché dovete sapere che tra l'altro Fiorello e Rosario, diciamo, allora, Fiorello ha fatto la prefazione di questo libro e Rosario, da appunto la premessa. Quindi si sono esposti personalmente per questo libro e quindi la primissima domanda che vorrei fare a entrambi è perché avete deciso di dare il vostro sostegno e di promuovere questo libro? Quindi Rosario con la premessa e Fiorello con la prefazione. Diamo prima magari la parola a Fiorello e poi a Rosario. Vai Fiorello. Intanto grazie, buonasera a tutti ancora. Con Maurizio e Rosario ormai ci conosciamo da diverso tempo, addirittura con Rosario forse da vent'anni ai tempi che lui era presidente della città delle nocciole, quindi abbiamo fatto delle operazioni insieme all'interno del Lanci. Ma a parte questo, la conoscenza, l'amicizia e diciamo anche l'apprezzamento del lavoro che ciascuno fa, questo del turismo esperienziale che è una novità da qualche anno, però ancora credo che debba affermarsi completamente. Il turismo esperienziale ormai credo sia diventato un oggetto quasi del desiderio, nel senso che la gente ormai va cercando proprio di fare cose, non più di vedere, ma di fare, di agire. Io tanto tempo fa coniammo proprio il termine di persone che devono diventare attori del turismo, quindi da consumatore a consuma, apostrofo attore, cioè consumare mentre si fanno cose, mentre si conosce, mentre si raccolgono esperienze e soprattutto si raccolgono delle sensazioni che poi si riportano a casa e a nostra volta poi si raccontano. Ecco, il racconto che diventa il frutto di esperienze che vengono fatte nei luoghi. Tanto più una destinazione si dota, è capace di creare esperienze, tanto più questa destinazione otterrà successo nel campo del turismo, soprattutto in questo momento direi quasi più internazionale che nazionale, perché poi lo vediamo già anche nei risultati, anche nella nostra rete. Sono tantissimi ormai gli stranieri che ci chiedono appunto la prima domanda che fanno. Sì, oltre a vedere cose, ma cosa posso fare? Qual è l'azione che posso compiere in un certo luogo? Ecco, noi stiamo cercando insieme a Maurizio e a Rosario anche di perfezionare questa attività, che deve essere poi una crescita costante e continua soprattutto nelle piccole realtà, che hanno probabilmente, non hanno tante cose da offrire, come potrebbero essere le grandi città d'arte, ma hanno tantissime potenzialità che si svolgono poi su territori dove le esperienze sono caratterizzate dalla presenza di una comunità, di una comunità chiamiamola tra virgolette originale, che parla quel dialetto, che sa cucinare certe cose, che magari conosce anche le erbe, conosce le piante, sa portare la gente magari in un bosco, raccontare anche i sentieri. Ecco, io credo che questo sia l'elemento fondamentale sul quale l'Italia può essere, può ulteriormente, anzi deve ulteriormente specializzarsi per raggiungere sempre quote sempre più, sempre maggiori rispetto al turismo internazionale. Noi ancora, rispetto ad altri paesi, nonostante le grandi potenzialità che abbiamo, siamo un pochino indietro, non sono più soltanto le città d'arte o le grandi mete turistiche che possono controbattere altrettante grandi mete turistiche di altri paesi. Noi possiamo vincere la battaglia, no la battaglia non mi è fatto sarto termine, ma facciamo vincere la competizione con altre grandi mete turistiche come la Francia, la Spagna, la Germania, gli Stati Uniti o anche la Cina, se volete, raccontando i nostri territori e soprattutto facendoli raccontare a chi abita in questi territori, i quali a loro volte, chiudo, devono imparare a conoscerli, sapere conoscere bene che cosa si è per raccontare bene a chi arriva. Ecco, questa è un po' credo che sia, o tutta la questione che riguarda la professionalizzazione degli operatori del turismo esperienziale e per questo mi ha fatto piacere che Maurizio mi ha chiesto di fare una prefazione, non so quanto sia stata utile, però ho provato a portare, a dare il mio contributo. Grazie Fiorello e poi dopo continuiamo con altre domande. Intanto invece volevo chiedere a Rosario. Tu Rosario, come presidente te, passo test, hai quindi anche tu promosso, dato il sostegno a questo libro con la tua premessa. Che utilità vedi in questo libro? Tu come presidente di un'associazione di operatori di turismo esperienziale? Innanzitutto ringrazio Fiorello di aver fatto un intervento che mi permette di raccordarmi a lui, professionalizzare gli operatori nel turismo in Italia con un approccio esperienziale e questa era un'aspettativa soprattutto dei grandi tur operator, come faceva riferimento Fiorello. Questo manuale, più che questo libro, questo manuale dà le competenze e le istruzioni per superare l'esame d'ingresso al registro professionale Assotes. Finalmente noi abbiamo uno strumento in Italia che permette di dire, bando alle improvvisazioni, gli operatori del settore possono professionalizzarsi nel turismo esperienziale, quindi è inutile definire le activity experience. Le esperienze vanno ideate, allestite, erogate in modo professionale, in modo affidabile, in modo sicuro. Per questo motivo allora il lavoro di Maurizio Testa, anche con la mia premessa, il lavoro di Maurizio Testa fa sì che l'operatore di turismo esperienziale che si propone come agente di cambiamento nei territori, come agente di cambiamento soprattutto nei territori fragili. Prima, e mi raccordo a Fiorello Primi, si parlava di borghi, ma si può parlare anche di centri storici, si può parlare di tutti quei territori che sembra strano, man mano che cresce il turismo si spopolano. Ecco, l'operatore di turismo esperienziale diventa un agente di cambiamento e questo manuale rappresenta proprio la pietra miliare perché anche in Italia il turismo esperienziale possa professionalizzarsi e essere di maggiore qualità e di maggiore affidabilità. Grazie mille. Senti, nella tua premessa tu poni l'accento sui beni relazionali, sull'attitudine relazionale. Ora spiegaci un attimo come pensi che questo libro, questo manuale come dici tu giustamente, possa aiutare chi vuole sviluppare questi beni e queste attitudini e perché tu ritieni che questi siano indispensabili nel rapporto con il turista. Quindi come questo manuale possa aiutare a sviluppare questa attitudine, questi beni e perché tu li ritieni così importanti? Allora, il manuale offre l'opportunità di acquisire una metodologia, un processo per strutturare un palinzesto, un tessuto narrativo che permette a questo punto di condividere passioni, gusti e quindi creare relazioni. Cioè in altri termini le passioni sono moltiplicatori di relazioni. Ma questo va aggiunto, quello che prima diceva Fiorello, mi trovo in un bel borgo ma alla fine dopo aver visitato questo bellissimo borgo, aver fruito di questo bellissimo borgo, mi pongo la domanda. E ora che faccio? Ecco, l'intrattenimento esperienziale allestito con il disciplinare story living experience si propone proprio di essere un bene relazionale. Cioè in altri termini la ricerca della felicità che il mondo occidentale dopo gli anni sessanta, dopo gli anni settanta si è posto come obiettivo non è possibile più con i beni materiali, bensì con i beni relazionali. Cioè in altri termini è la reciprocità, è la gratuità che crea la felicità e il poter acquistare il biglietto del teatro e il poter curare gli affetti o un hobby e in altri termini vivere un'esperienza secondo il modello story living significa vivere un bene relazionale. Sia per chi lo eroga, sia per chi come turista nelle veste di protagonista lo vive e compie l'impresa, vive la storia, l'avventura da compiere. Perfetto, grazie. Mi sembra che è stato molto, molto, come dire, chiaro e incisivo nella sua, il suo intervento. Allora io adesso passerei invece all'autore e eh dopo aver capito un attimino perché due persone comunque che rappresentano eh delle associazioni, quindi anche una un insieme di persone di una collaborazione anche abbiano deciso di appoggiare e promuovere questo libro. Adesso parliamo, passiamo all'autore e gli chiedo come è nata l'idea di questo libro, ma ancora prima come da dove nasce il progetto di turismo esperenziale, professionale e sostenibile e a chi si rivolge? Perché prima del libro è nata l'idea del turismo esperenziale, professionale e sostenibile. Quindi molto rapidamente cerchiamo di eh capire qual è la genesi eh di questo progetto che poi ha portato alla realizzazione del manuale. Beh allora intanto grazie Rita ehm grazie anche a tutti i partecipanti che vedo sono molto numerosi diciamo forse anche più del del preventivato per cui questo ci fa un gran piacere eh perché alle sei di sera saranno anche tutti stanchi dopo una giornata di lavoro. Allora vorrei essere molto sintetico, poi se è utile ho anche qualche slide di appoggio, però eh per dire dove nasce tutto eh devo prima dire due parole anche sulla mia storia. Io mi occupo di marketing strategico ehm da almeno trent'anni insomma anche di più forse. Eh quando a un certo punto ho focalizzato il tema dei beni relazionali come possibile chiave di sviluppo futura di diversi settori di mercato perché gli aspetti delle fabbriche così come vedete stanno andando tutti o in Cina o da altre parti per cui si produce sempre meno e sempre di più i mercati eh sono mercati di servizio. Ora il tema dei beni relazionali non è sostituibile dalle macchine perché per fare relazioni ci vogliono gli esseri umani. Un esempio diciamo classico che che non centra col turismo per esempio è quello della medicina e voi sapete che un'infermiera o un medico curano ma se lo fanno con un'intenzione di vicinanza, di empatia, di accoglienza quindi sviluppando questo ragionamento del bene relazionale è più la medicina quello che non le medicine che prendono. Cioè l'accoglienza, l'intensità di relazione fa bene alle persone. Non sto qui a spiegare tutta la sociologia che ci va dietro e che viene ripresa appunto dal turismo e dal turismo esperienziale perché come diceva Fiorello e anche Rosario il questo turista che viene chiamato consumatore che poi è la traduzione in italiano della parola prosumer che è nata all'inizio del millennio. Consumer è il proactive consumer cioè è un consumatore che acquista un prodotto che fa lui che in parte fa lui che sembra quasi una contraddizione. Perché lo fa lui? Perché abbiamo detto che si immerge nel territorio e fa cose in contrapersone quindi il prodotto certamente ha un valore per la qualità del group leader che c'è sempre, ha un valore per le persone e le cose che facciamo quindi contenuti ma ha successo se il nostro turista si mette in gioco perché se il turista invece rimane freddo e assettico il prodotto non funziona. Questo diciamo così in generale. Ora il grande tema quindi questo ragionamento nasceva nel 2009 ok dove all'interno di tutto un lavoro una tavola diciamo una task force che avevamo messo in piedi si erano evidenzati dieci tipologie di business che avevano questa caratteristica dei beni relazionali e il turismo era tra i più importanti. Poi è passato un po' di tempo abbiamo fatto anche delle sperimentazioni a Roma tra l'altro con altri colleghi e nel 2014 dopo aver completato un'analisi appunto del mercato mi sono accorto che c'era un fenomeno dilagante in giro per il mondo già dai primi anni 2000 infatti è nel 2014 il report di TripAdvisor che dice a livello mondiale il 40 per cento delle activities ecco ricordiamo poi dirò qualcosa sulle attività 40 per cento delle activities richiedono un'immersione nel territorio. È tantissimo ma di tutto questo diciamo ragionamento non c'è traccia non c'era alcuna traccia in Italia noi abbiamo cominciato a fare formazione dal 2015 ma io penso che fino al 2018 nessuno sapeva cosa fosse il turismo esperienziale. Adesso è tutto esperienziale anche diciamo fare una normale visita guidata senza togliere niente e quindi c'è il rischio di anacquare un significato che invece trova appunto come hanno detto i colleghi prima un interlocutore speciale c'è un turista lento un turista attento alle relazioni non è un turista a mordi e fuggi. Allora continuando un po' questa storia nel 2014 che cosa veniva fuori? Veniva fuori che questo fenomeno dilagante sarebbe dilagato sempre di più e perché dilaga? Perché c'è un motivo sociologico che adesso non sto qui a raccontare se no diventa molto lunga nel libro è spiegato molto bene quindi c'è la sociologia del turista i turisti che aumentano il post diciamo il post moderno che è cambiato che non va solo sul turismo diciamo generalista tra l'altro va detto che non è che c'è un bianco e un nero tutti noi siamo a volte turisti generalisti e a volte ci piacerebbe essere turisti esperienziali soprattutto se ritorniamo in un posto quindi qui si entra anche col discorso del turismo di ritorno che spesso è diminuito in Italia perché noi vendiamo l'Italia per gli stereotipi questo è un bel problema perché allora abbiamo zone affollate o in mente Venezia dove abbiamo fatto dei prodotti meravigliosi tre calli più in là cioè tre calli più in là dell'overcrowding andiamo negli artigiani vediamo come fanno le bondone andiamo a remare ma ne facciamo di tutti i colori dove non c'è nessuno ma in piena stagione ecco qui chi è che fa questi prodotti è un po il turista di ritorno oppure il turista smart ecco ma che fatica anche andare indirizzare allora sembra che l'Italia vi passo un altro ragionamento sembra che l'Italia viva molto di turista generalista e che vuol dire che altre nazioni sia quelle già affermate come diceva Fiorello la Francia fa un turismo esperienziale eccezionale ma io vi dico che avendo studiato un po tutte le nazioni dove ho trovato il meglio è in Nuova Zelanda ecco in Nuova Zelanda ho trovato le basi di un turismo esperienziale diciamo strutturato con argomenti che poi anche noi abbiamo ripreso per costruire prodotti sofisticati di altissima gamma ora è chiaro che tutti i paesi del mondo vogliono fare turismo mentre negli anni 50 c'era l'Italia al primo posto ma il turismo è anche poco tutti vogliono fare turismo e quindi c'è una battaglia perché il mercato è molto grande quindi ecco che l'Italia ha l'opportunità o di aggiungere il turista esperienziale di valore a quello che ha già o deve stare attenta a non perdere quote di mercato che diminuiscono il turista generalista e che va poi in Nuova Zelanda il turista esperienziale che è un turista di motivazione fa finire che va in Nuova Zelanda e l'Italia non ci viene quindi arrivando alla conclusione di questo primo ragionamento a questo punto non ho neanche usato le slide che sono rimasto diciamo con questo ragionamento allora quando abbiamo visto questo scenario abbiamo detto caspita il gatto è già scappato cioè il mercato del turismo esperienziale nel 2014 l'hanno già preso altre nazioni a noi sono rimaste le frattaglie scusate se dico la parola ora noi facciamo turismo esperienziale in Italia perché a chi lo vendiamo al turista generalista turista generalista arriva in Italia e magari fa anche la lezione di cucina ma non è questo il mercato che ha valore noi dobbiamo convincere e parlare al turista di motivazione che deve andare in quel borgo ma anche a Venezia attenzione a vivere quella passione il mosaico i longobardi la vita di Dante capite che non sto più parlando di destinazione sto parlando di motivazione spero che sia chiaro il ragionamento adesso noi collaboreremo con un'associazione i longobardi e alla fine abbiamo ragionato di fare tutto un percorso che ovviamente comincia dal nord Italia arrivato in Apuglia perché i longobardi sono un argomento ecco cominciano già a nascere anche a livello internazionale tour operator tematici vabbè uno dice l'anno gastronomia è un tematismo molto diffuso anche l'Italia ci sta puntando è vero è vero però non c'è solo quello ecco non c'è solamente allora completando un po' questo ragionamento allora se tu vuoi recuperare delle quote di mercato dove hai perso il mercato ai due modi non ce ne sono altri o a bassi prezzi o i nuovi non sto qua a fare esempi anche sul libro troverete tutto quindi noi possiamo fare tanto turismo esperienziale di bassa qualità improvvisato abusivo nel senso che se uno si fa male avanti tutta tanto nessuno risponde magari quello parla male anche l'inglese possiamo fare tutte queste cose oppure possiamo consolidare una professionalità e una metodologia questa idea della metodologia in Italia non è molto diffusa l'unica che io conosco sto parlando non di metodologia di come si gestisce un hotel perché lì c'è noi siamo bravissimi ecco sulla sull'accoglienza devo dire non abbiamo nulla sull'enogastronomia non ci manca niente ma sulla creazione di un prodotto turistico esperienziale che io sappia metodologie non ne ho trovate e quindi ecco che l'abbiamo definita l'unica diciamo simile diciamo diversa quella delle cesarine non so se conoscete le cesarine sono nati da una professoressa di bologna di marketing che ha fatto un piccolo disciplinare oggi sono diffuse in tutta italia 50 euro per persona vanno a casa di queste signore un po anziane sono preparate fanno home food tutto a norma e loro raccontano il cibo e raccontano anche un po la loro vita una cosa molto semplice però è garantito quel servizio quindi avere uno scheletro disciplinare che cos'è uno scheletro dice tu fai tutto quello che vuoi fuori come le persone tutte le persone hanno uno scheletro però sono tutti diversi quindi il prodotto deve garantire una struttura che porta l'emozione alla memorabilità sono parole di marketing che a volte sono vuote ecco noi l'abbiamo riempite il disciplinare garantisce questo tipo di risultato e potrei farvi mille esempi che è diverso che se non ci fosse questa struttura che lavora sia sui contenuti ma anche sulla psicologia allora detto questo chiudo l'argomento e poi do la parola rita una volta che abbiamo cominciato a fare questa formazione al momento abbiamo formato più di mille persone ecco non tutte sono arrivate a diventare operatori di turismo esperienziale perché noi abbiamo un corso base e poi un corso avanzato quel corso base uno capisce apprende la metodologia che poi gli può servire anche nel suo territorio invece il corso avanzato uno diventa un operatore di turismo esperienziale e poi può entrare appunto nel club di prodotto joint place con dei prodotti estremamente sofisticati quindi indisciplinare non è un aggiornamento professionale è una professione perché come diventare chef del turismo esperienziale quindi non è per tutti però una volta che tu sei un professionista che hai imparato a fare 100 poi puoi fare 80 50 40 perché chissà di più può fare anche di meno ma non in dicembrezza ecco tanto per fare un esempio ricordo di aver visto in televisione il famoso chef carlo cracco che faceva l'omelette anche io faccio l'omelette ma lui l'ha fatta in un modo che io sono rimasto invasito solo per darvi un esempio quindi imparata questa cosa poi abbiamo imparato nel tempo che questa competenza questa filosofia andava molto bene per le destinazioni cioè per sviluppare attrattività nuova nelle destinazioni quindi noi non ci occupiamo e nel libro non se ne parla di come si organizza la cooperativa di come è fatto lotter noi non siamo esperti di quello il libro racconta il processo di sviluppo dell'attrattività di una destinazione sulla base della scansione identitaria che è unica è unica di ogni posto e sui tematismi che sono tipici di ogni posto mi fermo qui perché forse ho già anche parlato troppo e ridò la parola vita allora grazie di questo diciamo puntuale approfondimento ecco un'altra domanda volevo farti sempre per far capire meglio ai nostri altri partecipanti come dicevamo con rosario questo libro è un manuale quindi si propone di offrire in modo ampio esauriente delle informazioni che sono fondamentali per acquistire una metodologia in questo caso specifico nel settore turistico ora se poi in modo sintetico magari ecco mh aiutandoti anche con le tue famose slide spiegare a eh tutti noi la metodologia disciplinare che poi ovviamente uno può approfondire dettagliatamente nel libro ma dare ecco proprio un escursus molto rapido di che cos'è e come è fatta questa metodologia e questo disciplinare in maniera da avere noi un'idea di come eh poi diciamo viene sviluppato e approfondito nel libro allora eh dunque la tua domanda è precisa ma temo che le slide non siano adeguate ok allora senza slide allora provo eh provo ehm provo a dire allora la metodologia serve per fare un prodotto sofisticato dicevo prima eh sì allora poi abbiamo fatto ecco questo è anche scritto nel libro ma magari non è così noto più recentemente eh abbiamo avuto tanta gente che dice ma io non voglio diventare ote non voglio diventare operatore di turismo esperienziale però vorrei fare un prodotto di qualità allora abbiamo fatto uno spin off del disciplinare eh semplificato molto appunto se era 100 l'abbiamo portato a 70 ma che comunque non è poco 70 e comunque c'è sempre un disciplinare che ha preso il nome di experience to live quindi molto semplice che rilascia un marchio di qualità al prodotto cioè certamente chi fa il prodotto impara qualche cosa però non è che possiamo dire che sia diventato il professionista per diventare professionista deve imparare la roba difficile sofisticata però possiamo fare in modo che il prodotto sia di qualità quindi qui non c'è lo story reading ci sono molte semplificazioni allora partirei da questo ultimo che è il fattor comune allora il il disciplinare vive di dieci fogli a fine è un excel con dieci con dieci fogli scusami che ho visto qua dei messaggi con dieci fogli che con tanti scatolotti che vanno riempiti ora questo è diciamo il risultato riempire questi scatolotti secondo criterio ma appunto il libro dice come si costruiscono i contenuti degli scatolotti quindi vado velocissimo allora il primo foglio noi la chiamiamo l'anagrafica delle passioni quindi ci sono i tematismi sono otto artigianato arte cultura storia eccetera eccetera e poi in colonna ci sono le modalità di erogazione che ne so cooking lesson caccia il tesoro storia geografica di una persona famosa cioè abbiamo tutta una rista che non è congelata cioè uno poi liberamente può aggiungere altre modalità noi abbiamo messo una ventina che sono quelle abbastanza più diciamo più note in modo che uno mette la passione prioritaria quindi incrociata tra le celle adesso capisco che non ho qui sotto mano la figura e non faccio fatica a spiegarvelo e ne mette fino a quattro diciamo c'è una griglia c'è una griglia è una griglia dove c'è una priorità quindi il prodotto ruota intorno alla passione primaria la passione primaria deve essere quella di cui è esperto il group leader perché così mi porto gli altri gli altri invece possono essere di altre persone che incontro perché se se il turista è di motivazione è appassionato che ne so appassionato di mosaico è quello di interesse all'argomento il nostro group leader lotte esperto di mosaico e come dire che tengono per la stessa squadra se due che tengono per la stessa squadra si trovano conoscono tutto dell'argomento diventano amici in tre secondi quindi è un moltiplicato quindi tematismo che è l'argomento diventa a suo volto moltiplicatore di relazione poi nel secondo foglio abbiamo i cosiddetti quattro ingredienti e sei caratteristiche che ci servono per fare il risotto qui c'è un concetto che devo scambiare con voi cioè il turismo in Italia spesso lavora sulla materia prima ma non lavora la materia prima cioè noi prendiamo le cose come sono e le portiamo al turista e non si fa più così in giro per il mondo non fa più nessuno noi dobbiamo prendere la materia prima che c'è nel territorio e lavorarla l'esempio che noi facciamo gli ingredienti eccoli qui materia prima e poi facciamo il risotto facciamo il piatto dobbiamo avere una ricetta ecco quindi disciplinare aiuta a costruire la ricetta per un prodotto finale questo lo dico agli ascoltatori è molto importante questo passaggio è fondamentale è già un primo scatto passare dal concetto di materia prima che va scavata quindi c'è anche un processo di scavare tirare fuori il cosiddetto genius loci in modo dettagliato dal territorio questo fa parte anche del processo di destination management e trasformarlo trasformarlo quindi materia prima trasformarla in un prodotto e poi l'ultimo pezzo è avere accesso a una rete di distribuzione perché questo è l'altro punto che se noi vogliamo continuare a vendere il prodotto esperienziale che è di grande valore con la stessa metodologia con cui vendevamo al turista generalista non venderemo un bottone quindi qui c'è una rivoluzione da fare devo essere sincero non sono sicuro ma ancora faccio fatica a vedere conosco persone che ci sono riuscite ma hanno dovuto arrangiarsi insomma qui c'è da fare la rivoluzione proprio su quello che si chiama il go to market come vado sul mercato mi hanno domande velocemente adesso se no diventa anche lunga ecco chi fa lo story living c'è questo concetto della storia adesso basta che capiate che tutti sanno cos'è lo storytelling e qui abbiamo lo story living cioè invece di ascoltare una storia la facciamo noi la storia non è una fiction attenzione è un leggerissimo gioco di ruolo addirittura anche non è un gioco di ruolo cioè noi dobbiamo compiere una impresa c'è sempre un'impresa da compiere più o meno declamata questo crea emozione crea il boost e si arriva fino a un culmine ecco quindi io direi che mi fermo qui perché era per dare un'idea di questo schema di questa griglia all'interno della quale ci sono degli elementi che servono di base per costruire poi tutto il processo di sviluppo del nostro storytelling del nostro prodotto finale di qualità Rita scusa se ti interrompo no se posso dire una cosa che è di valore perché non la sa nessuno quasi nessuno una cosa che tra l'altro non abbiamo inventato noi perché quando abbiamo creato disciplinare noi abbiamo messo insieme pezzi che già esistevano però abbiamo collegato quei puntini non so se questo concetto vi sembra sì abbiamo anche inventato qualcosa noi però abbiamo messo insieme cose che già esistevano negli università negli studiosi nell'esperienza all'estero e il punto dove noi lavoriamo è sulla dinamica un punto diciamo qualificante è la dinamica della relazione ci sono sette punti da presidiare contatto familiarità immersione immersione identificazione culmine emersione distanziazione trasformazione allora questi questi elementi c'è un lavoro sotto che voi non avete idea perché sono questi che creano la relazione l'emozione l'emozione porta la memorabilità che è uno degli scopi dell'economia dell'esperienza la memorabilità passa porta il passaparola e alla diffusione sui soci a questo un po ragionamento e soprattutto crea una emozione che chi va a casa non se la dimentica più quei famosi relazioni di cui parlava anche rosario che sono diciamo fondamentali per lo sviluppo di questo tipo di prodotto esperienziale allora io adesso farei un giro di domande per tutti e tre partiamo di nuovo magari da fiorello primi ecco maurizio parlava della difficoltà di poi diciamo aggredire in qualche modo comunque riuscire a conquistare il mercato quindi di andare sul mercato con questi prodotti e conquistare il mercato ecco la mia domanda è eh quali ritenete siano le più grandi difficoltà per lo sviluppo di questo tipo di turismo e quali dovrebbero essere le strade da percorrere quindi cominciamo con fiorello Quanto tempo ho? Eh poco Allora intanto qualche breve considerazione su quello che ha detto Maurizio io credo che un elemento importante sia quello di non dare per scontato che in Italia i turisti arrivano comunque No perché poi con questo dare per scontato si rischia poi comunque no che piano piano Non arrivano più Numero il numero ma anche la qualità va scemando quindi Dobbiamo sempre credo stare sempre molto molto come si dice sul pezzo perché Il mercato è sempre più complicato ci sono sempre più destinazioni che si affacciano sul mercato internazionale quindi la competizione è sempre più dura Quindi dobbiamo essere in grado di offrire prodotti sempre nuovi sempre freschi insomma che possano attirare nuova gente possano far ritornare chi già chi già c'è stato e anche questo è un bel problema Allora le difficoltà eh certo sulle forze sulle grandi mete turistiche eh è difficile creare esperienze perché poi c'è l'affollamento dappertutto bisogna trovare i luoghi adatti ma lì la gente comunque E' più facile farla arrivare perché tutto sommato ci arriva perché dico questo Borghi più belli d'Italia sono 355 anzi ne abbiamo ammessi anche oggi altri sei sono 361 Parti in tutta Italia soprattutto nelle aree interne E questo è il problema più serio ovvero noi possiamo anche fare le belle esperienze ma se poi sul borgo non ci si arriva o per arrivarci bisogna fare chissà quali viaggi no? Eh avventurosi è evidente che il problema si pone allora tutta la questione che noi stiamo anche portando avanti ormai da anni come progetto chiamiamolo politico di azione politica come associazione è legato proprio alla questione la prima questione è l'accessibilità sia fisica che digitale perché poi molte delle esperienze devono basare si possono basare anche su digitale perché poi magari se c'è da andare a fare un giro in un bosco eccetera ci vuole anche il GPS perché se uno si perde poi no? Succede quindi ci sono delle problematiche enormi che vanno risolte a livello proprio strutturale strategico C'è un'altra questione che sta emergendo sempre più grave che è quella dei servizi I servizi di base che sono prima di tutto un problema per le comunità e penso servizi di base quali ormai cominciano a mancare anche i medici di base in molte zone la scuole, le scuole, trasporto pubblico locale ma banalmente anche un bancomat dove poter prendere il contante anche la possibilità di pagare con il bancomat perché magari non c'è la connessione oppure devi aspettare lì dieci minuti perché la connessione non arriva Quindi sono tutte problematiche che vanno inquadrate in un piano strategico di rivitalizzazione di comunità che rischiano di perdersi nel tempo e nello spazio Ovvero i borghi italiani, le aree interne, sono sempre più a rischio di spopolamento E se lo spopolamento continua con questi ritmi io ho paura che questa esperienza sarà difficile farle perché non ci sarà più nessuno che le fa fare perché non ci saranno le persone Quindi ora è fuori dalla portata del libro di Maurizio Però credo che questa questione io la sollevo ogni volta che posso perché credo che sia una delle questioni cruciali Credo che un punto sia veramente importante è quello del marketing strategico Cioè giustamente Maurizio diceva che non è più la destinazione che attira ma è la motivazione E per dare queste motivazioni come ho detto prima bisogna conoscersi per far conoscere Ecco la questione del marketing strategico alla base del quale c'è chi siamo, da dove veniamo, che cosa abbiamo e dove vogliamo andare E questa è la questione cruciale che parte prima di tutto deve entrare nella testa degli amministratori locali Che devono farsi anche promotori di azioni di questo genere Non pensando che basta mettere un depliant in una fiera per dire venite qua perché guardate come siamo belli Perché la gente non gliele frega assolutamente nulla di questa faccenda qua E quindi ecco questa credo che siano questa del turismo esperienziale rimane è sicuramente un elemento importante Ma sopra questo se vogliamo Maurizio e poi maestro di questo ci vuole il marketing Marketing di area Quindi diciamo uno dei problemi più importanti e quindi anche nello stesso tempo la strada giusta da percorrere È quello di lavorare molto sul marketing E l'ultimo, scusa, l'ultimo, un altro elemento credo importante sul quale occorrerebbe approfondire bene Che è molto, e questa è per esempio una motivazione forte che spinge molti per esempio turisti del nord Europa La questione della sostenibilità ambientale e del paesaggio Cioè essere una località o una destinazione fortemente protetta dal punto di vista ambientale Che tutela l'ambiente, il paesaggio e quant'altro È molto attraente per esempio per il turismo delle persone, diciamo i viaggiatori del nord Europa Anche questo è un elemento importante sul quale riflettere molto bene quando si vuole fare promozione turistica Grazie Fiorello Allora, Rosario, velocissimamente se tu vuoi dire anche tu qualcosa riguardo alle difficoltà e alle possibili strade Io poi volevo chiedere ai nostri partecipanti se ci sono domande, se ci sono approfondimenti Magari possono cominciare a scrivercele nella chat e poi io le porrò ai relativi relatori Quindi nel frattempo che Rosario risponde a questa domanda voi potete cominciare a scrivere se avete domande e approfondimenti Ritorno al punto di partenza ma in modo molto succinta Questo manuale diventa realmente la pietra miliare, l'elemento di raffronto per prepararsi ad affrontare una domanda che come diceva Maurizio già nel 2014 ci ha lasciato soltanto le briciole In altri termini c'è una domanda di turismo esperienziale per cui l'Italia non si è ancora organizzata Noi come Assotes associamo quegli operatori di turismo esperienziale che hanno fatto un percorso di formazione e di specializzazione per un approccio che finora era sconosciuto, anzi possiamo dire finora era improvvisato Ora c'è il bando all'improvvisazione, sì all'affidabilità è possibile professionalizzarsi con questa metodologia, con questo processo Aggiungo che c'è una novità con il libro di Maurizio Testa Alcuni borghi, e mi raccordo a Fiorello Primo, alcuni borghi stanno intraprendendo il percorso dei progetti di destinazione Cioè alcuni borghi si stanno interrogando su qual è la loro vocazione, a quale target di mercato vogliono riferirsi E come organizzare l'offerta di turismo esperienziale E noi li stiamo affiancando con il bando PNRR, con il bando Montagna Italia, con il bando Piccoli Comuni a vocazione turistica E infine con i diversi bandi dei Gall Quindi c'è un'esigenza di fare rete soprattutto nei territori a cui faceva riferimento Fiorello Primi, cioè nei borghi Io aggiungo anche nei centri storici, nei territori rurali e soprattutto nei territori più fragili Grazie, grazie Rosario, tra l'altro nel frattempo che stanno arrivando le domande Io approfitterei proprio di quello che ha detto Rosario Per chiedere a Maurizio, visto che abbiamo parlato dei problemi Ma in realtà nel capitolo sei, se andate a leggere il libro, vedete che si parla anche dei risultati Di quello che si è riusciti ad ottenere E proprio nell'ottica di quello che diceva adesso Rosario Maurizio ci racconta rapidamente del caso di Sauris Che è un caso emblematico e significativo di tutto quello che ha detto prima Fiorello E di quello che ha detto ora Rosario E poi vi leggerò un po' di domande Allora, grazie Intanto proietto due o tre slide così mi accompagno Allora, diciamo che alla fine di un progetto di destinazione che segue il nostro processo Attenzione, un conto è la metodologia, lo story living, l'operatore Un conto è invece il processo di sviluppo di un territorio Che nel tempo abbiamo imparato a fare e che per fortuna ha avuto successo Ecco, il successo più eclatante che possiamo raccontare è questo Di questo piccolo paesino 400 persone, piccolissimo 500 posti letto Che è nella Carnia Un paesino molto bello, devo dire Cioè, un po' isolato Che vive storicamente di turismo di prossimità Friulani, qualcosina dal nord Italia Siccome è abbastanza vicino all'Austria Qualcosina Quindi un turismo generalista Di prossimità Insomma, vado a fare la vacanza in montagna Si sta bene, eccetera Ora, il punto è che questo paesino Cosa abbiamo fatto? Abbiamo estratto insieme con loro Adesso spiegherò questo concetto di insieme con loro Che è fondamentale Abbiamo tirato fuori l'identità più profonda Abbiamo scoperto una cosa incredibile Adesso non vorrei stare qui a raccontare Nel libro c'è scritto tutto quanto Ci sono 5, almeno 5 punti distintivi Che lo caratterizzano rispetto a tante altre storie Che, ripeto, adesso per poco tempo Non sto qui a spiegare Su questi prodotti Su questa identità Di questi 5 aspetti Ce ne erano anche altri, ma minori Questi 5 erano molto forti Abbiamo formato gli operatori di turismo spedenziale Fatto i prodotti Ecco, quello che non ho detto Che è importante dire Questo processo di sviluppo Comincia con un committente E un comitato guida Per cui ci vuole qualcuno che ci creda Il sindaco La consorzio In questo caso era il consorzio E un'istituzione del paesino Cioè era il consorzio montano del paese Ci credeva Lo voleva fare Ha avuto dei fondi Perché poi tutti questi progetti Per fortuna sono finanziati Ma io dico anche per sfortuna Perché quando i soldi sono gratis Ma poi quello che succede interessa poco Per fortuna che questi invece Era gente Questi friulani Era gente in gamba Che ci credevano E il danaro pubblico Non era preso a spesa Era preso investimento Voglio vedere un risultato Allora Comitato guida Per dipingere un percorso Workshop Dove abbiamo messo insieme Con una metodologia Dell'art of hosting Che adesso non so se qualcuno sa Di cosa sto parlando Insomma Mettiamo insieme la gente La facciamo lavorare Tutti i portatori di interesse Da chi fa il prodotto L'artigiano Il tour operator La DMO regionale È intervenuto Bruno Bertero Che era Adesso non è più Il marketing director Del promo turismo Cioè abbiamo coinvolto Tutti coloro Che erano implicati Ne è venuto fuori Una serie di traiettorie Che abbiamo seguito Quindi L'identità Cosa vogliamo fare Come la vogliamo fare Con chi la vogliamo fare E anche come pensiamo Di venderla Perché è inutile fare Tanto lavoro sull'offerta Se poi non si va a vendere Allora Per vendere Bisogna avere anche i soldi Devo dire che per fortuna Hanno poi vinto Devo un po' vantare Come consulente Ho preparato un business plan Che prevedeva Un investimento Di 2 milioni di euro Che poi hanno vinto Bene Si vede che il business plan Era convincente Per mettere in pista Una organizzazione Commerciale Che penso Fra poco Sarà messa in pista Che costa Cioè Fare commercio Costa molto E che verrà poi Sperimentata In questo piccolo paesino E poi verrà messa Fattore comune Di tutta la Carnia Che sono altri 5-6 consorzi Per cui Un centro di competenza Commerciale Che si diffonde E quindi si ripaga Perché Il marketing costa E quindi Bisogna che Abbiamo un sistema Di ripagamento Quindi Diciamo Questo percorso È stato portato Fino in fondo I prodotti Sono stati Eccellenti Uno Visto la domanda Ma come si fa A misurare l'emozione Allora Non c'è il metro Non c'è Come dire La temperatura Che metti sotto le ascelle Ma c'è un riscontro Che si può fare Con dei sondaggi Ma anche Con il risultato Immediato Allora Noi facciamo sempre Un test dei prodotti In questo caso Abbiamo coinvolto Gente Diciamo Del posto Il test è fatto Con amici e pareti In modo che Se succede qualcosa Che si sbaglia Insomma Non si fa brutta figura In realtà Qui è data molto bene Abbiamo coinvolto Tutte Un gruppo di persone Della DMO Promo turismo Friuli Derezza Giulia Io ero un po' timoroso Perché questi Guardavano il prodotto Se era buono E cosa ne è venuto fuori Che sono rimasti entusiasti Quindi Ricordo L'assessore Di un paese Vicino Giovane Che è venuta A partecipare E il giorno dopo Dice Ma cosa avete fatto Io non ho dormito Tutta la notte Eppure Le cose Che avete fatto Io le conoscevo Tutte Ma le avete messe insieme In un modo Non ho dormito Tutta la notte Nell'emozione Ecco Questa è La testimonianza Più forte Che io posso raccontare Di una dimostrazione Dell'effetto Che fa Come diceva Anche la famosa canzone Però Cosa è successo Che questo coinvolgimento Dall'inizio Della DMO regionale Quindi Non è il paesino Che è davanti Per conto suo E poi si scopre Che la DMO Va da un'altra parte Ma la stessa traiettoria Ha fatto sì Che la DMO Ha proposto All'ENIT Di candidare Questo paese Per questo premio L'ENIT Ha visto Ha capito Ha valorizzato Le cose che erano fatte E l'ha proposto Insieme con l'isola del Gigno Mi pare E Sauris Ha vinto A livello mondiale Un paesino Di 400 persone Quindi Un riconoscimento Pazzesco Si è trasformato Subito in vendita No Ci vorrà del tempo Bisogna mettere in pista Una struttura Che impari a vendere Come vi dicevo Però Dal punto di vista Di marketing Capite che Questo paesino Ha fatto un salto quantico Cioè Da 10 che era È andato a 1000 Ora Non è che adesso Se qualcuno ci chiama A fare un altro progetto Tutti Vinceranno il premio Però Quello che noi Ci sentiamo di dire È che questo metodo Funziona E Volevo solo chiudere Poi Non dico altro Perché magari Non è chiaro Il metodo Di vendita Di un prodotto Di motivazione Perché Il prodotto Di destinazione Si va alla fiera Si spera di trovare Un buyer Si va all'estero Insomma Si spera di trovare Qualcuno Che gli piaccia La destinazione Qui invece Facciamo Faccio un altro esempio A Cetara Qui c'è il professore D'appunto Che ci sta lavorando E ormai completato Un bel progetto Di destinazione Che mette insieme Il tema Contamini pescatori Per cui Tutto il mondo green Di cui parlava Fiorello Ci va dentro Sempre in Campania Abbiamo un altro progetto Che ormai è concluso Sulla dieta mediterranea Ora capite Che non si vende Il posto Ma si vende Il concetto di salutismo La dieta mediterranea Fa bene Allora Dov'è che noi Dobbiamo andare A vendere Quel prodotto turistico Ma nelle riviste Di salutismo Di benessere Cioè Non andrà Capite Cioè Il modo di vendere Sarà diverso Quello dei longobardi Bisogna andare Nei giornali di storia Capite E questo Adesso ho fatto Gli esempi stupidi Cioè Bisogna ripensare E quindi Proprio come diceva Fiorello La strategia di marketing Deve rinnovarsi Perché il turista Lo prendi Da un'altra parte Chiudo Raccontando L'esperienza Che non c'entra con noi Ma forse Ne abbiamo parlato Nel libro Di un'amica Che ha fatto Un piccolo tour Operetto Di incoming E si è focalizzata Solo sul mosaico Solo Nel giro di due anni Faceva già Mezzo milione di euro Di fatturato Come ha fatto? Facendo le fiere? No È andata sui social È andata a cercarsi Le scuole Le università Gli artisti Le persone appassionate Dell'arte E sono venuti a frotte Lei ha trovato Dei posti In tutta Italia Ben focalizzati Sul mosaico Tematismo Il mosaico Certo Tematismo artistico Però un po' specializzato E tematico Quindi grande successo Quindi Diciamo che Le sperimentazioni Ci sono state Hanno avuto successo Ora dobbiamo sperare Che la macchina da guerra Del go to market Cioè di come si va al mercato Cominci a cambiare Vengono in nostro aiuto I famosi big data Big data Che anche il turismo Comincia a utilizzare Ci dicono Le segmentazioni fini Ci dicono Gli appassionati Longobardi Eccoli qua Li troviamo qui Quelli della dieta mediterranea Quindi indirizzano Io le chiamo I tematismi verticali Che non sono invece Quegli orizzontali Della destinazione E qui mi fermo Quindi Chiudendo almeno Il mio intervento Questo libro Dà un aiuto Sia a tutti gli operatori Del territorio Quindi quelli che vogliono Fare strategia Istituzioni DMO A tutti coloro Che vogliono professionalizzarsi Più o meno Tanto o poco E a tutti coloro Mondo dell'accoglienza Mondo degli agriturismi Eccetera Che vogliono Abbinare All'accoglienza Un prodotto Di valore Che Agriturismo Più prodotto di valore Il bando dei due Alza L'attrattività Della struttura Hotel Più prodotto di valore Diventa Un attrattore Per l'hotel Non è più sufficiente Mettere Le belle camere E il buon breakfast Se voi andate a vedere Il programma Dei quattro hotel Di barbieri Su Sky Vedete Che loro Sempre mettono dentro L'esperienza Ancillare All'albergo E pretendono Che sia l'albergo Che la propone Finito Sì Allora Io Velocemente Volevo Leggere Qualche domanda E poi Anche Indirizzare Ci sono Anche Sto leggendo Delle domande Che sono più tecniche Cioè Discorso Di Come fare Per poter Ecco Per esempio Salvo Che diceva Che sommelier E come Già fa Degli itinerari Delle esperienze Come fare A non incorrere In sanzioni Non essendoci Una Una figura Professionale Allora Le domande Più tecniche Io direi Di Ora poi La postiamo Nella chat Magari La mail Di Rosario E possono essere Poi anche Inviate In contatto diretto A Rosario Perché sono Qualcosa di tecnico Che lui Sicuramente Potrà Spiegare In maniera Dettagliata Ci sono Poi Persone Che chiedono Forse Più di una Ho visto Il discorso Di come Proteggersi Da Chi magari Copia Il tuo Prodotto E In maniera Lo fa male Copia male E Ti fa svendere O comunque Ti fa perdere valore Anche Alla tua Alla tua Esperienza Allora Su questo Magari Ecco Invece Possiamo Possiamo Dare una risposta E lascio la parola A Maurizio Poi Per quanto riguarda Volevo aggiungere Tutto quello Che è Diciamo Normativo Anche nel libro Viene spiegato bene Tutte quelle che sono Le differenze E dettagli Normativi Per le varie Diciamo Professionalità O comunque Attività Nel settore turistico Perché qualcun altro Chiedeva anche Il discorso Che Il fatto che in Italia Ci siano Tour Operator E Agenzie di viaggio Che sono le uniche A poter vendere i pacchetti Se crea problemi Nel commercializzare Il prodotto turistico Esperenziale Anche qui Troverete delle risposte Nel libro E anche qui La risposta Diciamo Dipende Nel senso Che dipende Il tuo prodotto Turistico Esperenziale A che cosa Lo associ Come giustamente Maurizio faceva adesso L'esempio dell'hotel Quindi Su queste Diciamo Informazioni tecniche Sicuramente Potete avere Riscontri Nel libro Adesso lasciamo Invece la parola Su questo discorso Un pochino più Ecco Come gestire Le copie Dunque Siccome hai detto Alcune cose Faccio una piccola Premessa Allora È evidente Il libro È una Somma Di Cos'è Dieci anni Di esperienza Per cui Volevamo Ti ricordi Rita Volevamo scriverlo Ancora nel 2015 Io dico che Alla fine È stato un bene Che abbiamo Aspettato A far Perché Ci abbiamo Messo dentro Tutta l'esperienza Di dieci anni Quindi Penso che il 99% Delle domande Sono coperte Nel libro E vi suggerisco Di acquistarlo Anche perché Non costa Un capitale Guardate Io non diventerò Ricco Con le royalties Del libro Quindi state tranquilli Non è che lo dico Perché devo diventare Dico Ma Lì dentro Penso che In questo momento Sul mercato Non ci sia Un altro testo Che mette insieme Tutti gli aspetti Quindi Strategia Metodologia Normative Aspetti assicurativi E destinazione Cioè È veramente Un insieme Olistico Eccetera Il tema Ma me lo copiano È un tema Che Nei nostri corsi Tutti quanti Pongono E la mia risposta È semplicissima Più è sofisticato Il prodotto È più difficile Copiarlo Perché Tu metti insieme Le persone La zia La nonna Il cugino Cioè Metti insieme Situazioni È difficile Metterle insieme Non è facile Cioè Non è come andare A vedere Un museo Non dico che sia Facile Cioè La guida È preparata Studiato Quindi lei Ha avuto difficoltà A imparare Però il museo È quello Dice qui L'allestimento Prevede un sacco Di dettagli È difficile Mettere insieme E più lo fai Cioè Se fai una lezione Di cucina Non è difficile Copiarla Ognuno fa Una lezione Di cucina Poi uno ci va Una sarà meglio Una sarà peggio Però comincia A essere indistinta Questi prodotti Questi prodotti Hanno una forte Caratterizzazione Di complessità Organizzativa Sono dei piccoli Pacchetti Insomma Che fa sì Che oggettivamente Sia molto Difficile copiarli Punto Quindi Uno dei motivi È questo Il discorso Del tour operator Allora Detto che È un discorso Dove ci sono Mille 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 Diciamo Sfumature Però Se il prodotto Non lo puoi vendere Per qualche motivo Direttamente Certamente Ti devi appoggiare A un amico Agenzia Si terrà Il prodotto Lo vendi tu Cioè Lo vendi vuol dire Non metti in vendita Ma la parte Fattura Amministrazione Lo farà Il tuo amico Si terrà A questi prodotti Devono marginare Almeno il 30% Attenzione Cioè Fatto il costo Dove magari c'è anche Il tuo costo di guida Tu devi almeno Avere un 30% Di margine Tu che vendi il prodotto Se poi L'operatore Che lo compra A sua volta Ci metterà Il suo margine Sono prodotti Che possono variare Come costi Perché non si è detto Ma sono malleabili Cioè Sono fatti in modo Che è molto facile Adattarli Senza perdere La narrativa Che li tiene insieme Allora Detto questo Quel 30% Tu ti tieni il 20% Il 10% Lo lasci al tuo amico Che fa solo La parte Amministrativa La fattura L'assicurazione Eccetera Quindi in questo modo Tutti vincono Ecco Io ho già visto C'era una domanda Che poneva l'accento Su tutte le piattaforme Che vendono esperienze E la domanda Di una Di un tour operator All'agenzia di viaggi Diceva Che è preferenziale Coinvolgere di più Tour operator All'agenzia di viaggi Ecco Su questo voglio chiarire Che noi Non abbiamo mai venduto Sulle piattaforme Per questo motivo Cioè L'idea è quella Di creare una rete Di collaborazione E Ognuno fa il suo mestiere Cioè Chi sa fare L'esperienza E Fa l'esperienza Chi Sa vendere Vende Chi è tour operator Fa il tour operator Per questo motivo Come diceva Maurizio Appoggiarsi A chi Ha le competenze Le licenze E sa fare Il suo mestiere Quindi Questo sia chiaro Noi È stata una scelta Che è stata fatta Anche tanto tempo fa Non siamo mai stati In vendita Sulle piattaforme Proprio perché Crediamo che sia Dall'insieme Delle competenze Da una rete Che Crea Anche La partecipazione Perché Ovviamente Il tour operator Fa la richiesta E magari Noi possiamo Anche Personalizzare L'esperienza E quindi Renderla ancora Più unica Ancora meno Copiabile Ecco Da qui Nasce La vera Forza Del turismo Esperenziale Se invece Andiamo Come tutti Sulle piattaforme Diventa anche Difficile Spiegare Qual è la differenza Tra noi E un'altra Esperienza Perché In così Poco tempo Il testo Che legge L'utente Non riesce A Diciamo Trasmettere Le cose Quindi questo Era un chiarimento Che credo Fosse importante Poi c'è qualcuno Che dice Che Ritiene Che Forse Diciamo Il nostro Metodo Tende A Ingestare Un po' Il Il La spontaneità Creando Un protocollo Togliendo 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 Naturalezza All'esperienza E Anche qui Magari Chi ha questo dubbio Ovviamente Probabilmente Non ha ancora Avuto tempo Vi assicuro Che non è così Non è così Però bisogna Avere la pazienza Di vedere Vedere anche i prodotti Perché Uno dei parametri È proprio L'autenticità La genuinità L'emozione La familiarità Tutte cose Che Altro che Ingestare Però Ci devono essere Non le lasciamo Al caso Capite Cioè Un conto È lasciare Al caso Alcune situazioni Un conto È Cercare Di Avere Quel contenuto E Essersi preparati Prima Perché Quella cosa lì Venga fuori Nell'incontro Adesso Ci sono esempi Che potrei fare Dunque Chi ha questi dubbi Ci deve fidare Non è così Non c'è ingessamento Assolutamente Perché altrimenti Vorrebbe dire Che ogni persona Che esiste al mondo È ingessata Eppure tutti Hanno lo stesso scheletro Ecco Usate questo paragone Che è molto utile Poi Se qualcuno È curioso Ma che venga a fare Uno dei nostri corsi Online Tra l'altro Non costa neanche tanto Che così Ha una panoramica Complessa E poi Vuole portare Questa cosa A un hotel Vuole portarla In una destinazione Ha Come dire Ha preso in mano Una serie di ragionamenti Che gli danno forza Anche per incidere Nel territorio Io chiedo Scusa Rita Ma Adesso non so Se volevi chiudere Ma C'è un argomento Che non è stato detto E che mi consentirebbe Di coinvolgere Fiorello Primi A sua Insaputa Fiorello Ho un ragionamento Da fare Su cui io so Che tu stai lavorando E non ci eravamo Preparati prima Per cui ti lascio Poi libero Allora Il tema è questo Il grande tema Su cui noi Stiamo lavorando Anche se su questo tema Non abbiamo ancora Risultati Perché siamo all'inizio Quando tu fai Il turismo esperienziale In questo modo Crea una connessione Tra il turista E appunto Le persone del posto Che sono anche L'agricoltore Quello che fa il formaggio Quello che fa il vino Quello che fa Le madonnine Eccetera Cioè Ci sono dei piccoli artigiani E il turista Che va lì Ora cosa succede? Nascendo una relazione Di amicizia E questo che sto dicendo Io so che già Ci sono realtà Che lo stanno facendo Per cui non me lo sto inventando io Quando poi torna a casa sua Se si fa un buon marketing Si fa in modo Che lui Continua a comprare Il vino Del signor Giovanni Il vino del signor Giovanni Probabilmente Non è il migliore Di altri vini Ma si porta L'intangibile Dell'amicizia Col signor Giovanni Ecco Non so se mi seguite Per cui L'americano Che riesce Ad acquistare Questi prodotti Poi dice ai suoi amici E io ho il signor Giovanni Il mio amico italiano Che mi dà il vino Ora E do la parola a Fiorello Io so Che Fiorello È implicato O sta iniziando Ad essere implicato Perché mi raccontava Già un po' di mesi fa Di un progetto Dove stava Digitalizzando Migliaia di prodotti Di artigiani Di artigiani Eccetera Ecco Non so Fiorello Se hai un commento Cioè Questa cosa Non è più turismo Ma il turismo Diventa Il rasoio E il vino È la lametta Non so se l'esempio Del rasoio Gillette È utile Quindi Usiamo il turismo Per lanciare Il prodotto Italia Questo crea lavoro Questo crea valore Questo crea economia Allora Sì Ma hai dato Un bell'assist Perché intanto Vi dico Che nel sito www.borgipiubelli.italia.it Potete già trovare La possibilità Di acquistare Dei box Con i prodotti Dei Borghi Belli d'Italia Provenienti Sia dalle zone Delle alluvioni Dell'Emilia Romagna Che dalle zone Del centro Italia Che sono Che hanno subito Il terremoto Oltre che Un box Con una ricetta Calabrese Che se Che è la pasta Con l'anduia Tanto per dire A che punto Siamo arrivato Maurizio Quando te ne ho parlato Te ne ho parlato Oggi siamo Praticamente Alla quasi conclusione Nel senso Che La digitalizzazione È pressoché Conchiuta Il database È fatto Da circa 8000 prodotti Parliamo solo Di anogatronomia Non artigianato 8000 produttori Con 17000 prodotti C'è già un database Pronto Ora abbiamo fatto Questa sperimentazione Dei box natalizi Quindi si stanno Confezionando Eccetera L'abbiamo già messi Sono già pronti Per essere venduti Ma questo soprattutto Perché serve Amante Come dicevo prima Uno dei problemi più seri È lo spopolamento È lo spopolamento Dei borghi Ma anche dei territori Che poi provocano Quello che vediamo Se il territorio Non viene mantenuto La natura Non è matrigna Fa il suo corso E quindi Succedono Le cose Più Più brutte Quindi Questo è un processo Un progetto Che sta andando Fortemente avanti E questo discorso Poi di legarli Di legare Questa Questa digitalizzazione L'anno prossimo Faremo tutto Il ragionamento Sul racconto Del prodotto Cioè il prodotto Deve essere raccontato Cioè far capire Che fatica dietro Che esperienza dietro c'è Quanti secoli Forse anche Di esperienze Di produzioni Che hanno portato Poi a A realizzare Quel salame O quel formaggio O quel vino O quell'olio Quindi questa è Un'operazione Molto importante Molto interessante Per quanto ci riguarda Perché poi alla fine Dovrà sostenere Questi piccoli produttori E creare magari Un po' di occupazione Ho visto una domanda Interessante Diceva Cioè la sostenibilità Non può essere Solo ambientale Vero? Perché noi abbiamo anche Diciamo Costretto Il ministero Del turismo Quando è manato Il bando Borghi A scrivere Rigenerazione urbana E sociale Non solo urbana Perché altrimenti Recuperavamo un po' Di immobili Senza destinarli Perché poi c'è Questo problema qua Quindi ecco Questo è Diciamo Un progetto Molto importante Che sta Praticamente Arrivando A conclusioni Poi magari Ne parleremo meglio Anche a Venezia Quando ci incontriamo La borsa del turismo Esperenziale Ecco Grazie 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 Perché Anch'io Non ero Aggiornatissimo Ti faccio i complimenti Una Ultima cosa Che non si è detta prima Scusa Rita Non lo è Perché ci pensiamo in chiusura È il tema Della sostenibilità Allora Tutto questo approccio Di cui abbiamo parlato È il terzo punto Richiesto Dalla Certificazione GSTC Non so se qualcuno La conosce Global Sustainable Tourism Council Una certificazione Sulla sostenibilità Allora Certo Bisogna avere Il sistema Delle acque Tutte cose Infrastrutturali Ma uno Dei tre punti È proprio Il coinvolgimento Con la cultura locale Con le persone Del posto Ed esattamente Quello Per questo motivo Che noi abbiamo Chiamato il libro Turismo Esperenziale Professionale E sostenibile È fondamentale Questo passaggio Cioè La sostenibilità E la valorizzazione Della cultura locale Infatti Volevo Giusto Rispondere Mettere in risalto Questa domanda Che chiedeva Sulla sostenibilità È in effetti Uno dei pilastri Diciamo Poi anche Del Tutto quello Che c'è Nel manuale Poi Rita Scusa se interrompo Ancora Siccome vedo Tante domande È impossibile Rispondere Con una frase Cioè O vi comprate Il libro Partecipate A uno Dei nostri corsi Tutte le cose Che avete scritto C'è ampia Risposta In questi ambienti Per cui Rispondere così A botta risposta È impossibile Perché aveva fatto Un ragionamento Vabbè Comunque molte Ruotavano intorno A questi principali argomenti Quindi poi alla fine Abbiamo toccato Gli argomenti principali Che venivano Diciamo Esplicitati Nelle domande Allora io direi Che possiamo chiudere Siamo andati Ben oltre Il nostro Alla nostra Ora Però ho visto Che c'è stato Tanto interesse Ci sono ancora Oltre 70 persone Collegate Quindi vuol dire Che evidentemente L'argomento Come dire Interessava Quanto meno Era accattivante Proprio per questo motivo Voglio ricordare A tutti La BITESP Dal 22 Al 24 A Venezia Dove al di là Della fiera Quindi degli espositori E dei vari Momenti d'incontro Ci saranno Tutta una serie Di seminari Che Saranno Diciamo Come dire Curati Proprio Dal test E quindi Se siete interessati All'argomento Se volete approfondire Se volete anche Conoscere qualcuno Di noi O comunque Parlare dal vivo Con qualcuno di noi Venite alla BITESP 23 e 24 Tutta la giornata E potrete partecipare Agli incontri Seminari Potrete venirci a trovare Al nostro stand E quindi potrete anche Parlare direttamente Con Rosario D'Apunto Con Maurizio Testa O anche con me Credo che Saluterei Sì Nella Nella chat Rosario Vi ha Appena Postato Il link Con il programma Completo Del Forum Quindi di tutti Gli incontri Seminari Che cureremo Quindi saluterei Ringrazio Fiorello Primi Rosario D'Apunto E Maurizio Testa Grazie Grazie a voi Buona serata Buona serata Grazie a tutti È stato un onore Avervi presenti Grazie Ciao Buona serata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti